Si terrà dal 17 al 19 novembre prossimi al porto turistico Marina di Pescara Visionaria il primo Adriatic Innovation Forum organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con il supporto dell'Agenzia di Sviluppo del PID Punto Impresa Digitale e con la collaborazione di InnoValley. Tre giorni di talk, oltre 50 speaker, 12 start-up, centinaia di studenti, partner tecnologici nazionali ed internazionali, ospiti che arriveranno dalla Croazia, dalla Spagna, dalla Bosnia-Herzegovina e dagli Stati Uniti, presente anche un'ampia rappresentanza del sistema camerale italiano. Questo è il primo forum che organizziamo per l'innovazione, la digitalizzazione e saranno presenti ospiti nazionali e internazionali per cui presentiamo il nostro territorio al mondo e dei giovani ricercatori che hanno interesse a crescere. Le aspettative è che speriamo che molti di questi giovani che sono dei piccoli oggi ricercatori abbiano successo e ne traggono interesse loro e l'intera comunità. Visionaria è un momento di sintesi di cui il nostro territorio ha bisogno, è uno strumento con il quale avremo la possibilità di capire, intercettare e costruire un tangibile ecosistema dell'innovazione, questo in sostanza visionaria. L'agenzia di sviluppo che è poi il braccio operativo della Camera di Commercio attraverso la rete Enterprise Europe Network praticamente offrirà, modellerà i propri servizi proprio per crescere nei mercati, per innovare, favorire le imprese ad innovarsi e crescere nei mercati internazionali. Per quanto riguarda Innovalle che è uno dei partner organizzativi, ringraziamo di questo Camera di Commercio perché ci dà sempre grande importanza e grandi opportunità, è molto importante perché rafforza l'idea che abbiamo dell'innovazione del territorio che sia un'innovazione larga e aperta. Noi facciamo dell'Open Innovation una missione e un evento come visionaria di fatto era una realizzazione concreta di quello che significa fare innovazione larga sul territorio.